Questa sera inauguriamo il ciclo degli eventi POC con l'inaugurazione alla Torre Normanna dei pannelli che erano stati predisposti non solo per raccontare la storia di Pietra Melara ma dell'intero territorio comprensoriale. Ed è un particolare di questo progetto che questa sera prende il via perché dà la possibilità di avere delle informazioni immediate e di facile lettura per tutti tant'è che sono state coinvolte anche le scuole nella realizzazione di questi pannelli che restano qui in maniera permanente all'interno della Torre. Seguirà poi nel corso della serata un evento all'interno della Casa Comunale con dei balletti delle persone con vestiti d'epoca che sono stati confezionati proprio per questo evento e seguirà ulteriormente un momento conviviale tra tutti quelli che verranno a prendere parte questa sera all'inizio di questo ciclo di manifestazioni. Insieme al sindaco e quindi a tutta l'amministrazione abbiamo deciso di far diventare il salone nobile del palazzo ducale sala consigliare e così per dare lustro a quella che è la massima assemblea elettiva che rappresenta il popolo pietramelarese e per far sì che si possano celebrare degli eventi, matrimoni, dei concerti, dei convegni con la giusta cornice, una cornice storica che mette in evidenza l'importanza di Pietramelara su tutto questo territorio.